In bagarre, Prenonato va via ma alle sue costole c'è Doriano Sottana che non molla e un Claudio Baldinetti scatenatissimo i tre infiammano da soli tutta l'intera giornata del Triveneto Autocross della pista Le Cave di Vittorio Veneto un duello bellissimo senza scusione di colpi, si incrociano le traiettorie, ognuno cerca spazio ma davanti Umberto Prenonato tiene sempre la scia però si infila, Doriano Sottana esce di conseguenza larghissimo cerca di chiudere per mantenere la traiettoria ma Prenonato ancora va dentro, dietro Claudio Baldinetti cerca comunque sempre di aspettare l'errore di uno dei due per sfruttare al massimo la propria potenza e andare a vincere, cosa che però non accade con Doriano Sottana che si impone su Umberto Prenonato secondo Claudio Baldinetti terzo, poi arrivano Micopol con il numero 381 e Giorgio Nan con la macchina della scuderia 4 assi in quinta posizione si arriva così alla finale della categoria A dove parte la grande un egno da re combattutissimo, velocissimo però attenzione perché Antonio Berto comincia a guidare davvero bene, la pista diventa praticamente un unico pantano dove tutti cercano traiettorie, cercano di mantenere la posizione più diritta possibile, cosa difficilissima l'esempio viene da Federico Culusso, da Luca Casagrande, da Maurizio Moretti, tutti i piloti che cercano di mantenere diritte le proprie autovetture cosa che risulta un'impresa praticamente impossibile e qui bisogna saper per certi versi guidare in maniera impeccabile cerca traiettorie un po' nel terreno mosso Antonio Berto per cercare di sfruttare al massimo la potenza della propria macchina e va a vincere davanti a Federico Culusso e a Rudi di Zerò in terza posizione la categoria Sport un unico monologo praticamente di Giancarlo Bestetti che parte davanti e riva davanti seconda posizione per Cristiano Rosso e terzo posto per Franco Calzavara Nuova tappa per quanto riguarda il campionato Triveneto del mondo dell'autocross siamo a Vittorio Veneto in provincia di Treviso per questa prova unitamente c'è anche il secondo gran premio della Padania andiamo a vedere quanto è accaduto nelle varie categorie grande battaglia indubbiamente come di consueto ci si aspesta ovviamente per tutti i grandi titani presenti a Vittorio Veneto manca qualche pilota indubbiamente però nonostante questo si è certamente assicurati un grande spettacolo comunque la grande battaglia ovviamente riguardava le varie categorie dalla Sporta alla E dedicata ai prototipi ai prototipi per così dire fila 1.6 di cilindrata ma indubbiamente ci sono state grandi prove anche qualche discussione relativamente al punteggio acquisito in questo tipo di manifestazione visto che qualche pilota ultimamente non partecipa alle gare relegando peraltro agli altri metà punteggio rispetto a quello patuito in campionato andiamo a vedere quanto è accaduto nella categoria Sporta il duello era tutto tra Bestetti e Visentin nelle qualificazioni e nelle semifinali Bestetti ovviamente era andato bene Visentin però in finalissima, cambio di gomma per lui Mario Visentin è il pilota della scuderia 4A, si prende subito le redini della situazione con il suo Renault 5, grandissimo ovviamente Mario Visentin Giancarlo Bestetti soffre un po' anche perché il terreno era stato annaffiato e quindi la guida della sua Y1-9 diventava piuttosto difficile il duello comunque è piuttosto ravvicinato tra Giancarlo Bestetti e Mario Visentin alla meglio Mario Visentin al terzo posto si fa vedere un pilota della scuderia Le Bellerevo 20 come Claudio Casagrande poi il grande duello tra Cristiano D'Aros e Franco Calzavara uno per problemi legati al mezzo meccanico non era mai riuscito ad entrare sia nelle situazioni nella finale Franco Calzavara nei top e D'Aros praticamente aveva avuto dei problemini in stato di fatto che hanno battagliato logicamente per quanto riguarda la prova finale tra di loro come non bastasse nelle ultime tornate una foratura di Claudio Casagrande ha permesso il recupero a Franco Calzavara e quindi di conseguenza un arrivo decisamente molto serrato tra i due va a vincere in completa solitudine in grandissima prova di Mario Visentin che relega in seconda posizione Giancarlo Bestetti il pilota monzese Claudio Casagrande sul filo di lana va a battere invece Franco Calzavara Luigi D'Aros e Cristiano D'Aros e questa è la soddisfazione ovviamente della pilota trevigiano Mario Visentin andiamo a vedere invece la categoria E quindi i grandi prototipi presenti solo tre di la verità ma c'è stato un grande duello su tutti ovviamente Chigiato e Brugnaro c'era anche Valerio Voltarell che dispone del mezzo nettamente inferiore rispetto ai primi due quindi rimane agganciato tra le prime tornate per quanto può naturalmente la coppia di testa poi invece se ne va davanti Dante e Brugnaro nessun problema ovviamente per lui grida lui danzi in splendida scioltezza Paolo Chigiato con un problema addirittura meccanico aveva solo a disposizione due marce e quindi di conseguenza faceva quello che poteva ciò nonostante un errore vistosissimo di Dante e Brugnaro riporta in prima posizione Paolo Chigiato che quindi riesce nelle ultime due tornate in maniera piuttosto serrata a contenere il nuovo attacco di Dante e Brugnaro e portare a casa un importante punteggio e soprattutto un'altra importante vittoria proprio per quanto riguarda il Gran Premio legato al Gran Premio del Trofeo della Balania e il campionato Trivaneto-Wisp che erano impegnati per l'appunto a Vittorio Ivaneto sul filo di dana quindi Paolo Chigiato nonostante tutto va a battere Dante e Brugnaro che ha tentato ripetutamente il recupero nelle ultime due tornate Valerio Voltarell è in terza posizione la categoria B aveva due splendidi protagonisti Claudio Baldinetti e Doriano Soltana per le premissime posizioni un po' più indietro invece l'altra coppiata Mirko Polo e Giorgio Nanna Claudio Baldinetti l'aveva fatta da padrone in qualificazione in finale soffriva la partenza, era caduta in semifinale Soltana era riuscito a stare davanti solo per mezzo giro in finale invece cambiano le cose Soltana parte ancora una volta bene Baldinetti subito ovviamente vuole recuperare lotta tra le due scuderie 4 Asi e le Bielero 20 per la primissima posizione Soltana quindi chiude tutte le porte al buon Claudio Baldinetti la sua delta che peraltro poi lo lascerà a piedi proprio a metà della gara quando era in pieno attacco a Doriano Soltana a quel punto il pilota travisione Doriano Soltana non ha più avversari sostanzialmente riesce a tenere ampiamente la testa di questa categoria B peraltro fuori dai giochi Claudio Baldinetti peraltro fuori anche Giorgio Nan ha problemi al cambio anche per lui e quindi chiuderà in terza posizione rimane solo Mirko Pol a contrastare il passo a Doriano Soltana troppo tardi però perché nel frattempo ovviamente il pilota travisano avrà raggiunto un tal margine di vantaggio che è diventato imprendibile quindi grande vittoria di Doriano Soltana con Mirko Pol in seconda posizione al terzo posto Giorgio Nan in quarta lo sfortunatissimo Claudio Baldinetti la categoria A vedeva ovviamente il maggior numero di partecipanti sono nove i driver che si sono andati in battaglia per la finalissima su tutti ovviamente la copiata Ennio Darai e Rudy Di Zerò che aspettavano nient'altro che questa finalissima per tornare ai ferri corti dopo la grande semifinale ed eccoli qua a battagliare per tutti i dieci giri della finalissima quindi Darai e Di Zerò poi si fa vedere Maurizio Moret grande protagonista della semifinale soffre un po' la partenza della finale si fa vedere Andrea Peretti che ha continuato per tutta la giornata a cercare di risolvere i problemi del suo mezzo c'era una new entry come Stefano Marcuzzo Rudy Pettacola anche per lui grandissimi problemi del mezzo chiuso solo in sesta posizione ma questo è il duello che ha determinato l'attenzione anche di tutto il pubblico presente vale a dire Darai e Di Zerò il cinquino contro la X1-9 a duello a stretto contatto ovviamente i due piloti per 4-5 giri sembrava a un certo punto che Ennio Darai dovesse subire l'attacco definitivo di Rudy Di Zerò il pilota della scuderia Testa d'Oro ha chiuso tutti i marchi però il pilota delle scuderie delle Bielle Roventi e quindi di conseguenza non ha avuto problemi fino alla bandiera a schiacchi relegando ormai uno stanchissimo Rudy Di Zerò in seconda posizione Maurizio Moretta il pilota vittoriese va a recuperare eccolo con il suo pandino modificato il terzo posto Andrea Peiretti in quarta posizione Marcuzio in quinta Pittacolo in sesta Darossa vittima di un capottamento in settima D'Agnotti fuori dai giochi fino a delle battute iniziali questi sono i due protagonisti tra l'altro sportivamente si danno la mano Darai e Di Zerò andiamo a vedere invece quanto è caduto nella categoria D quindi i prototipini a confronto c'è un grande protagonista ovviamente Cristiano Giacomini che ha vinto le qualificazioni con il miglior tempo ha vinto le semifinali con il miglior tempo di giornata in assoluto e vincendo quindi anche la seconda edizione del Gran Premio della Padania Giacomini quindi no problem anche perché il suo peggiore o migliore avversario a seconda che parte si guarda naturalmente Giuseppe Canzin era fuori dai giochi dalla semifinale praticamente è partito alla rincorsa ha dovuto battagliare nelle prime tornate con la compiata la scuderia Le Cave vale a dire Giampito Casagrande e Giorgio Altoè è riuscito a passarli è riuscito a recuperare anche sul Chiesura troppo tardi però perché Giacomini va a vincere Chiusuro si conforma eccolo in seconda posizione Cazzini in terza e poi naturalmente ritroviamo Mognolo Altoè Casagrande e poi ho Loris Sanardo che purtroppo è in ritardo di preparazione tengo a precisare che Zuccato ha dei problemi di salute e purtroppo non finirà la stagione d'autopropa speriamo che naturalmente tutto questo vada a buon fine e di rivederlo protagonista l'anno prossimo si, li facciamo già gli auguri adesso perché so che ha un'operazione la prossima settimana li facciamo già gli auguri della scuderia sicuramente questo porterà bene a Pausto Zuccato uno dei protagonisti è Rudy Dizerò che è qui con noi allora Rudy innanzitutto un buon campionato italiano per te quest'anno si, non pensavo di arrivare così in alto diciamo siamo secondi a un punto da Tramonti soprattutto con una macchina nuova e al primo anno pensavo ci volesse uno sviluppo più lungo invece no siamo lì con i grandi tra le altre cose una macchina quella di Rudy che ha una particolare forma aerodinamica cioè nel tettuccio è sostanzialmente un po' rialzata questo è per quanto riguarda l'aerodinamica dell'auto cioè così va più veloce o per qualche altra situazione? no diciamo che lì ci perdiamo in peso perché abbiamo dovuto aggiungere anche roll bar e anche un po' di polemiche perché il problema è il pilota più che altro non per aerodinamicità vabbè allora quale sarà questo problema del pilota? io potrei anche far alzare Rudy e quindi il pilota si capisce perché ha questo problema aerodinamico andiamo avanti con i servizi di moto e motori subito la pista l'autocrossa e la cave nonostante questo l'organizzatore ha ritenuto ovviamente andare avanti di proseguire anche con la disputa di questa manifestazione grandissimo numero di partecipanti e quindi di conseguenza sarà senz'altro una bella gara una bella gara che vedremo proprio in questa scletta di questa puntata unitamente al top driver della classe open la chiusura del cammino d'arco per quanto riguarda il motocross stagione 2001 e naturalmente continueremo anche il cammino del trofeo al piede capo la gara trevigiana con la pista alle cave di Vittorio Veneto la pista che è stata un po' protagonista di varie vicissitudini negli ultimi weekend ma vediamo a vedere le parti tecniche della giornata con Claudio Badiletti uno dei protagonisti di questa corsa ci teneva tantissimo alla gara trevigiana problemi evidenti l'abbiamo visto al suo motore si va al briefing prima della partenza due parole chiaramente dovute da parte di Armando Tonel poi i vari consigli le varie regole del direttore di gara per l'occasione Lorenzo Lazzari si va quindi alla partenza della prima corsa la prima finale con la categoria C parte dalla pole position Cristian Gerolo con la sua ottima lancia delta in seconda posizione Giuseppe Cazzolato Cazzolato particolarmente convinto sarebbe già visto dal mattino che il pilota trevigiano della scuderia 4 assi aveva buone possibilità di ben figurare e così in effetti sarà ma andiamo a vedere lo start la partenza con un Cristian Gerolo subito velocissimo un Cazzolato che però si va subito ad proporre come protagonista va subito all'attacco della prima posizione che chiaramente non riesce nelle primissime battute e un Giorgio Succi con l'arancia delta numero 113 che si va ad inserire in terza posizione Succi sta un po' a guardare quello che succede lì davanti perché Cazzolato e Gerolo se le suonano sportivamente chiaramente di santa ragione e quindi Succi sta un po' indisparte viene a mancare già dall'inizio uno dei protagonisti delle gare dell'autocross alle cale vale a dire sabio libero non è tra i primissimi questo risulto un po' strano però non era sicuramente al top della sua forma e anche la macchina non era al massimo delle proprie possibilità un Gianni Cestaro che si va ad inserire attorno alla sesta posizione dopo il via e davanti comunque la bagarre continua e dà spettacolo Cazzolato Succi ad inseguire ci proverà poi nel corso di vari giri un po' sotto tutte le forme ma Cazzolato si inventa un po' le tradettorie è sempre molto personale lo stile di guida è altamente spettacolare del pilota trevigiano quindi Cazzolato mantiene comunque la sua ottima posizione davanti a Succi Cristian Gerolo nel frattempo va avanti prosegue e tenterà di andare a vincere questa gara ecco Savio Libero l'abbiamo già detto prima problemi per il pilota che non è stato protagonista qui sta addirittura per essere doppiato da un Cazzolato e da Succi sempre in seconda posizione Roberto Gerolo papà di Cristian si trova al quarto posto e così finirà si va quindi alla parte conclusiva con Cazzolato che vince davanti a Giorgio Succi con largo margine terza posizione per Cristian Gerolo questo è tutto per quanto riguarda la categoria C naturalmente arrivano le varie macchine Roberto Gerolo ha un problema proprio negli ultimi metri della corsa e si va a fermare proprio sul repilino di partenza arrivo senza comunque nessuna conseguenza per i piloti che arrivano e in ogni caso passano lato senza che problema Felice naturalmente più che mai Giuseppe Cazzolato si va alla categoria E qui i prototipi più spettacolari potentissimi con i motori di propulsori Porsche 3.000 di cilindrata e altre varie situazioni Giuseppe Mucci leader unico ed assoluto già nelle precedenti gare di Vittorio Veneto Giuseppe Mucci aveva portato un setting nella sua macchina praticamente perfetto grande stabilità sembra addirittura correre su un manto d'asfalto non sulle buche del tracciato vittoriese quindi Giuseppe Succi subito parte dalla polla chiaro e si invola alla grande dietro ci sono un po' di situazioni varie il pilota Dante Brugnaro secondo in grida di partenza secondo Alvia tenta in qualche maniera cerca di raggiungere Giuseppe Mucci ma non ce la farà assolutamente Paolo Chigiato va un po' in bagarre Franco Gallotta si mette a ruota quindi la situazione all'arrivo vede Giuseppe Mucci vincere davanti a Paolo Chigiato terzo Gallotta quarto Dante Brugnaro e la quinta posizione del pilota della scuderia Bielero 20 Valerio Voltarella si va alla categoria A un grandissimo Rudy Di Zerò dalla pole position va allo start convintissimo più grintoso che mai tutti gli occhi erano chiaramente puntati sul pilota della scuderia Testadola che però attenzione parte la prima va bene la seconda non entra un grosso scompiglio chiaramente causato in grida di partenza da questo inconveniente di Rudy Di Zerò che purtroppo rimarrà fermo all'attopista per alcuni istanti riuscirà poi a ripartire e inizierà un recupero davanti naturalmente nel gruppone c'è una grande bagara tra Ruzzante Berto Tramonti poi anche Cristian da Ross un seguitissimo Ennio da Re ci sono Rudy Pitacolo Paolo Antonioli Riccardo Reginato insomma c'è chiaramente lotta la classe A la classe A vede sempre numerosi piloti partecipare sono stati inizialmente fatte anche due semifinali per arrivare poi ai 12 piloti che hanno preso il via della finalissima ma torniamo a vedere un po' quanto succede davanti perché c'è grande spettacolo tra Antonio Berto e Gabriele Tramonti i due cercano naturalmente di sopravvanzare l'un l'altro tra i tori che si incrociano in continuazione e questo non fa altro che aumentare lo spettacolo e naturalmente infiamma anche l'entusiasmo del pubblico presente passa Elio Da Re il pilota trevigiano non è stato tra i protagonisti in effetti sta per essere doppiato da Massimo Ruzzante dietro Ruzzante altri doppiaggi che si sosseguono con la bagarre tra Berto e Tramonti qui Berto riesce a sopravvanzare in uno piaggio abbastanza velocemente mentre Tramonti ha qualche problema e questo chiaramente gli complicherà la vita si va in effetti così alla parte finale della corsa con Ruzzante che vince Berto secondo terzo Tramonti quarto Samogine e quinto Andrea Piaretti Rudy Dizerò concluderà in sesta posizione il suo recupero dopo purtroppo il problema meccanico che l'ha costretto a dover ripartire da zero praticamente dalla pole position dopo il via arriva a sette la posizione Tana ottavo da Re nono da Ross decimo Antonioli undicesimo Pittacolo dodicesimo Reginato la soddisfazione chiaramente di Ruzzante e poi le immagini delle altre minuti che sono arrivati sul podio andiamo in pubblicità ci ritroveremo tra poco Dolomiti Racing a Conegliano concessionario Kawasaki Ducati Suzuki con ricambio ed abbigliamento Dolomiti Racing è il concessionario esclusivo Ducati per il nord-est con i Ducati store di Treviso Venezia Udine Trieste ed i Ducati Service Lunardi Tecno Sport Moto Atelier Dolomiti Racing è il concessionario esclusivo Ducati per il nord-est L'Unic Star produzione lane e fibre in acciaio Fanzolo di Vedelago Servizi ambientali Vidori centro stoccaggio recupero e smaltimento rifiuti Vidori impianti di recupero bonifica ambientali Vidori e a Vidor Treviso RF Moto e Yamaha Conegliano moto nuove ed usate vittorie componenti Leitec RF Moto Yamaha San Venemiano Treviso I centri ARPA autorizzati Omnitel vi aspettano nelle sedi di Padova e Campo San Piero ARPA gli specialisti della telefonia e comunicazione Centro Revisioni Motor Car autofficina carrozzeria nella nuova sede a Carità di Villorba Treviso Centro Gomme nelle due sedi di Pordenone propone le migliori marchi di pneumatici cerchi, assetti e ammortizzatori Centro Gomme specializzato in assetti e pneumatici racing per auto e moto Centro Gomme offre particolari condizioni a team scuderie e piloti Centro Gomme per chi corre veloce e a Pordenone Beton Costruzioni Strutture portanti prefabbricati Solai Amel Belluno Nella magia del cristallo la luce si veste di forme e di colori Collezione Cristalli scopri un mondo di preziosi segreti e l'emozione di possedere un'esclusiva raccolta di capolavori in cristallo certificati Crystal Fantasy Collection Collezione Cristalli in edicola il primo fascicolo a sole 3900 lire con il cristallo a forma di fiore De Agostini De Adonna De Agostini presenta English for You CD Rob Puoi entrare dal tuo livello Progressivo personalizzato Riconosce la tua voce e valuta la tua pronuncia Success E in più hai a disposizione il nuovissimo sito internet De Agostini Lingue in edicola in edicola sole 4900 lire il primo CD rom con il fascicolo il dizionario e il microfono De Agostini Multimedia Passa di livello Copernico di Foppa Pedretti da 0 a 6 posti in più per rivoluzionare la vostra ospitalità La categoria D da Vittorio Veneto pista alle cave dove si è ripresa per appunto la stazione ebonistica dell'autocross italiano si va a vedere la pole position di Alessandro Gallotta la categoria D è quella naturalmente riservata ai prototipi junior qui siamo fino ai 1600 cm di cilindrata si va allo start anche i più numerosi piloti presenti ben 16 i nomi iscritti al via quindi sono state necessarie due semifinali per andare a selezionare e a qualificare i 12 migliori che hanno poi preso lo start della finalissima Alessandro Gallotta come già detto parte dalla pole e si invola subito davanti dietro c'è battaglia con Manzato Derrindati Mario Coppo era atteso a una buona gara anche Giorgio Altolè pilota tra le altre cose proprio di casa a Vittorio Veneto Alessio Gallotta Giuseppe Cazzin e anche un Claudio Franchini Claudio Franchini attesissimo è stato un po' sfortunato ha avuto problemi meccanici e tecnici che li hanno relegato praticamente alla fine in ultima posizione ecco un alto E determinatissimo con il numero 6 in gara e Alessandro Gallotta sempre leader della corsa nel frattempo tra Manzato Derrindati e Coppo ci sono varie situazioni un Renato Spedazzai che cerca di recuperare con il numero 2 Derrindati per l'appunto che va a cercare di seguire prendere naturalmente premisse le posizioni cosa che però non gli riuscirà al finish Alessandro Gallotta vince davanti a Manzato Derrindati Coppo in quarta posizione quinto posto per Angelo Mognolla questi sono i piloti che sono classificati nell'ordine per la categoria D quella dedicata quella appunto ai prototipi Junior qualche immagine anche qui per il vincitore poi va Alessandro Manzato e Alessandro Derrindati la categoria B naturalmente c'era grande attenzione su Fabio Ghezzi pilota della scuderia 4 assi Roberto Nanna Afro Morini Gise Dapieve lo ricordiamo pilota che per ricarica l'anno scorso nella Formula Driver quindi l'asfalto è passato quest'anno è ritornato voglio dire quest'anno al tutto terreno con la Volkswagen Scirocco e Roberto Zanotti che è leader del campionato è stato protagonista nel corso del semifinale di un incidente con relativo comportamento ha ripestinato la sua macchina e parte dalla quarta posizione comunque con tanto onore e gloria quindi questa è la situazione al via Paolo Clina si mette subito davanti e inizia la bagarre con Doriano Sottana che era scattato dal terzo posto guida bene il pilota della scuola dei quattro assi è protagonista naturalmente in questo inizio di gara c'è anche un Gigi Dapieve che cerca subito di inserirsi e in effetti va all'attacco con un sorpasso interno abbiamo visto Gigi Dapieve aggressivo più che mai Doriano Sottana l'avevo detto sempre a tallonare il leader della corsa questo Paolo Clina che però non aveva praticamente per nessuno la situazione già si va a sistemare e si attende praticamente la bandiera scacchio Umberto Prenolato bravo a giocarsi le sue carte Gigi Dapieve arriva poi alla conclusione a quello che era il suo obiettivo finale cioè a superare Doriano Sottana e lo scavanchia proprio sulla parte conclusiva della gara quindi Clina vince davanti da Pieve Sottana in terza posizione Zanotte arriva quarto quinto Prenolato Alfon Morini grande problema chiaramente la ruota posteriore sinistra l'abbiamo visto sesto classificato poi Nan Ghizzi e Pezzotto la categoria sport qui una novità interessantissima quella di Giuliano Gallon la guida della macchina di Enzo Fascicolo spettatore il proprietario in questa occasione Giuliano Gallon si è portato all'interno della lanciabetta a Monte Carlo ed è scattato grintosissimo dalla pole subito in bagare in battaglia con Giancarlo Bestetti quindi una bella lotta con un Gallon il pilota realista travisiano protagonista anche in questo caso l'autocross e si infiammano un po' tutte quante le varie situazioni un Eugenio Alselmi un Andrea Salvatore il primo toscano grande gara la sua si va subito a far vedere Bestetti tenta comunque l'aggancio al leader della corsa lo supera addirittura nel corso della gara quindi si pronuncia un discorso sicuramente interessantissimo è un Anselmi che transita sempre in terza posizione quindi la gara sembra avere più o meno questa situazione fino a quando il colpo di scena praticamente toglie dai giochi Giancarlo Bestetti la sua ruota praticamente se ne va per conto suo la macchina rimane chiaramente sprovvista e a Bestetti non rimane altro che ritirarsi Giuliano Gallon a questo punto diventa unico leader della corsa Anselmi si va ad inserire in seconda posizione Andrea Salvatore al terzo posto Christian De Ross battaglia nel retrovie con Claudio Casagrande e Giancarlo Giandini varie situazioni che si vanno a sistemare davanti comunque non c'è storia Gallon sente l'arrivo comunque di Eugenio Anselmi ma riuscirà perfettamente a controllare la situazione sino alla bandiera Scalchi arrivo quindi con un grande sprint Gallon vince davanti a Anselmi Salvatore in terza posizione quarto Giandini quinto Christian De Ross Sesto Casagrande Settimo Bestetti Giuliano Gallone esprime nella provincia di Treviso si ritrova il Circus dell'autocross Triveneto naturalmente lo scenario è quello della pista alle cave dove come di consueto si disputano i vari campionati regionali e nazionali della specialità numerose le macchine ancora parecchie le classifiche aperte nelle rispettive categorie e come di consueto le auto vengono suddivise in sei categorie si va quindi dalla categoria A alla categoria Sport nelle varie tipologie nelle varie cilindrate andiamo a vedere quanto è successo in gara cominciando dalla categoria D quella dedicata ai prototipi Junior sino a 1600 cm3 di cilindrata subito la partenza della griglia naturalmente completa e subito un Alessandro Gallotta in grande forma bene anche lo start per Giorgio Altoè pilota ha casato la scuderia alle cave che gestisce per l'appunto l'impianto di Vittorio Veneto e bene anche Silvano Nunelli Giuseppe Cazzin Pietro Carniel Renato Spinazzè nelle varie situazioni anche Enrico Ruzzate ha un buonissimo start la pista era caratterizzata da una traiettoria praticamente ideale mentre all'esterno delle varie curve una massa fangosa rendeva particolarmente difficile le auto la traiettoria chiaramente la corsa delle auto quindi le cose erano un po' complicate per i piloti nel senso che chi riusciva ad entrare nella buona traiettoria aveva certamente vita facile questo per quanto riguarda Alessandro Calotta una situazione subito compresa dal pilota che è andato immediatamente al comando e tranquillamente praticamente come unico denominatore è arrivato da vincitore al finish line Enrico Ruzzante si è classificato in seconda posizione buona la terza posizione in terzo posto di Giorgio Artuè come detto prima per l'appunto pilota che giocava o meglio guidava in casa nella categoria C interessante lo start di Savio Libero che è velocissimo alla partenza con la sua Audi 4x4 decisamente negativo invece il via di Giuseppe Calzolato pilota che è rimasto praticamente inchiodato alla partenza ma questo tutto sommato non gli ha complicato la situazione perché dopo vedremo sarà protagonista di un grande recupero ma quello che più interessava era la battaglia davanti davanti Savio Libero praticamente conduceva la bagarre seguito da un Franco Gallotta che pressava con la sua Delta 4x4 gialla l'Audi 4x4 di Savio Libero che sbaglia il tornantone al centro della pista praticamente va fuori traiettoria si infanga perde parecchi secondi e praticamente Franco Gallotta si ritrova la strada libera o meglio la traiettoria libera interna e passa decisamente al comando grande la rimonta di Giuseppe Calzolato con la lancia Delta della scuderia trevigiana a quattro assi avete visto sorpassoni in interno in esterno delle varie curve e questo premierà poi il pilota trevigiano andiamo a vedere quanto succede poi al finish line dove Franco Gallotta vince meritatamente ed eccolo un Giuseppe Calzolato decisamente positivo si classifica in seconda posizione terzo Roberto Talamini quarto Luciano Kunaz quinto Giorgio Succi solamente sesto invece Savio Libero protagonista all'avvia però come detto prima poi si è ritrovato a dover fare i conti con traiettorie non propriamente ideali per la sua macchina quanto è successo nella categoria A invece una griglia anche qui decisamente buona allo start un massimo ruzzante grintosissimo se la doveva giocare praticamente con Ennio Darè i due al via sono praticamente appaiati due cinquini ha però la meglio ruzzante nella traiettoria interna obbliga Darè all'esterno e questo praticamente sarà il tema conduttore di tutta la gara nel senso che ruzzante rimarrà praticamente sempre in prima posizione Ennio Darè costantemente di seguire però tra i due come potete vedere dall'immagine praticamente la distanza rimane pressoché in montata dall'inizio alla fine della corsa non ci sarà niente da fare per quanto riguarda invece Rudy Dizerò buono il suo recupero o meglio buonissima la sua gara e andrà a concludere dopo lo vedremo in transa posizione male invece Rudy di Pitacolo è stato uno dei protagonisti praticamente per tutta la corsa poi è stato messo KO da un vasto tecnico della sua macchina la pista a questo punto della giornata tra le altre cose presentava anche numerose buche quindi le macchine erano messe davvero a dura prova per quanto riguarda la parte tecnica e la componentistica del telaio la classifica finale della categoria A vede ruzzante in prima posizione è in secondo posto terzo Rudy Dizerò quarto Ennio Samoggin quinto Maurizio Fino questa è la classifica della categoria A per quanto riguarda la sport solamente tre le auto presenti allo start però tre auto decisamente interessanti anche perché erano guidate da piloti di tutto rispetto le tre X19 al via erano guidate da Bestetti da Ross e da Danny Zardo Danny Zardo che partiva con il terzo tempo praticamente dalla griglia però si proponeva subito come diretto antagonista di Giancarlo Bestetti tra i due nasceva un bel duello le due X19 si sfidavano in continuazione traiettorie che si incrociavano nelle varie situazioni però purtroppo per Danny Zardo c'erano problemi meccanici rompeva la sua macchina e praticamente dava via libera a questo punto ad Ross la classifica vedeva quindi di conseguenza per i tre piloti presenti nell'ordine Giancarlo Bestetti Cristiano Ross e Danny Zardo per l'appunto la categoria è quella dei super prototipi la massima espressione tecnologica e tecnica dell'autocross il prototipo di Antonio Bizzotto con il Porsche 3002 propulsore potentissimo telaio incredibile per questa macchina calda sequenziale praticamente come al solito non a rivali quando viene a correre Vittorio Vento e anche nelle altre piste del campionato italiano Antonio Bizzotto scatta dalla pole velocissimo via sarà imprendibile per tutti gli altri qualche problema invece ce l'avrà di conseguenza con il numero 91 Paolo Chigiato era stato decisamente in gara fino alla rottura del suo semiasse anteriore e questo chiaramente lo toglie di scena Bizzotto come detto prima dalla partenza non ha nessun problema dietro ci sono delle belle scaramucce delle situazioni interessanti come ad esempio Luciano Garazasarin che va a cercare in tutti i modi il sorpasso su Dante Bugnaro che tiene la traiettoria di essere sfida mentre in continuazione si va ad arrivare addirittura al contatto fisico o meglio meccanico in questo caso e praticamente Casarini si fa spazio e riesce a conquistare la seconda punizione la seconda punizione che manterrà praticamente sino al traguardo quindi Bizzotto vince davanti a Casarini Brugnaro perde anche il terzo posto a favore di un ottimo Valerio Voltarelle che sino alla fine ci crede e conquista così meritatamente il terzo gradino del podio quarto Brugnaro e quinto per la rottura meccanica Paolo Chigiato Lidia completa invece per quanto riguarda la categoria B tutti i 12 posti sono occupati subito dal via c'è un contatto una bella bagarre tra Claudio Baldiletti e Fabio Ghezzi i due praticamente già all'inizio vanno subito ad una situazione che si protegerà poi per tutta la gara in questa categoria non mancano le sfide non mancano i contatti all'interno Baldiletti si infila di prepotenza su Fabio Ghezzi avendo la migliore traiettoria e forse anche qualche cavallo in più riesce a sfruttare la migliore posizione e a portarsi davanti da questo punto della gara Baldiletti non mollerà più la leadership condurrà sino alla fine dietro si scatena una bagarre infinita si fa vedere ecco l'Odoriano Soltana va subito all'attacco della macchina di Fabio Ghezzi si inserisce anche Loris e Zanardo i tre praticamente vanno in bagarre continua per la seconda la terza la quarta posizione questo durerà particolarmente per tutta la gara in effetti è stato un po' il tema dominante e anche l'entusiasmo del pubblico è stato notevole grazie proprio a queste performance di questi piloti dietro naturalmente con tutte le macchine ben presenti in questa categoria c'è stata una lotta continua anche per le posizioni di rincalzo ecco che di conseguenza Pregnolato Nanna Greatti Pontarini sono i piloti che vanno in bagarre Baldiletti non ha nessun problema anche se tutti gli occhi sono concentrati praticamente sulla lotta tra Doriano Sottana Fabio Ghezzi e Loris Zanardo l'avete visto ancora una volta in sorpasso tra i tre si scambiano più volte le varie posizioni si arriva finalmente la bandiera a scacchi e la battaglia è vinta da un Baldiletti in solitaria dietro Doriano Sottana si impone su Fabio Ghezzi e sul bravo Loris Zanardo in provincia di Treviso naturalmente a Vittorio Veneto con l'organizzazione naturalmente omonima a gestire come di consueto il tracciato vittoriese i piloti si ritrovano naturalmente dopo la pausa invernale quindi si vedono nuove macchine si vedono nuove situazioni nuovi team tra le altre cose si ritrovano i campioni della stagione 2001 e naturalmente i nomi nuovi invece della stagione 2002 questo per precludere un interessante campionato il briefing come al solito da parte del direttore di gara che impone le regole da naturalmente quelle che sono le disposizioni per la manifestazione moderna e invita i piloti che la mette alla sportività più totale ed assoluta questo perché si sa le gare d'autocross prevedono sempre delle toccate che a volte possono andare oltre il consentito ma veniamo alla cronaca di gara vele propria iniziando dalla categoria A la categoria chiaramente più interessante per quanto riguarda la potenza dei propulsori dei motori di questi prototipi la partenza vede subito un velocissimo Paolo Chigiato al comando dell'operazione seguito stretto stretto da un Danizzardo un Danizzardo che si è presentato a Vittorio Veneto con questo nuovo prototipo e interessato naturalmente a dimostrare quanto vale la sua nuova macchina una nuova macchina preparata tra le altre cose in maniera praticamente perfetta e Zardo si mette subito a seguire le orme di un Paolo Chigiato un errore però lo porta allo spegnimento del suo motore del suo propulsore ripartirà ma perderà chiaramente qualche posizione ne approfitta nel frattempo Luciano Casarin Valerio Voltarella si fa sotto anche Paolo Pianca fa parte naturalmente della partita di questi potentissimi prototipi ecco Pianca transitare sul traguardo naturalmente siamo nel corso della gara Valerio Voltarella come detto non ha avuto uno start particolarmente felice particolarmente importante ma cerca comunque di recuperare Chigiato sempre stabile in prima posizione questa situazione si mantiene praticamente fino alla conclusione fino alla bandiera scacchi Chigiato vince la seconda posizione di Luciano Zancarini un Paolo Pianca terzo che però commette un clamoroso errore proprio una sbandata del suo posteriore sulla linea praticamente del traguardo e Danny Zardo si ritrova così regalato praticamente il terzo posto quarto Valerio Voltarella e quinto di conseguenza Paolo Pianca andiamo a vedere invece ora la categoria C con la categoria sport inclusa visto che non erano tantissime le macchine presenti sono state fatte e raggruppate praticamente in un unico start e il start più veloce è a favore di Antonio Piero Bonn Antonio Piero Bonn che se ne va via veloce veloce in seconda posizione si piazza subito Ivan Baldissar con l'altra lancia delta e stranamente per certi versi la categoria sport si inserisce nelle primissime posizioni questo perché le macchine della sport dovrebbero stare e essere perlomeno inferiori un po' sulla carta invece si fanno subito vedere da protagonisti come Daniele Gerussi con il suo X19 numero 466 va subito ad insediare il leader della corsa uno stop per Simone Arnoldo che si vede estromesso quindi dalla battaglia per quanto riguarda la categoria C primo sempre nel frattempo Ivan Baldissar davanti a Daniele Gerussi che però combattono nuovamente ripeto in categorie chiaramente diverse lo stop anche per Antonio Piero Bonn siamo così alla bandiera a scacchi Ivan Baldissar si ritrova tutto solo a tagliare il traguardo in seconda posizione virtuale Daniele Gerussi i due però verranno divisi poi nelle rispettive categorie di appartenenza andiamo a vedere quanto è successo nella categoria D naturalmente c'è l'allineamento allo start con Riccardo Pisa che parte dalla pole position però sono interessanti le altre posizioni come quella di Gian Matteo Pizzocchero Giuseppe Cazzin Renato Spinazzè lo start è velocissimo Gian Matteo Pizzocchero si propone subito come leader della corsa non ce la fa in effetti Riccardo Pisa a mantenere la sua prima posizione scattando dalla pole position e si vanno così a formare i primi due posti con Pizzocchero al comando Pisa in seconda posizione poi Bagar nelle retrovie qualche motore finisce chiaramente arrosto per vari problemi di natura meccanica nessun problema in ogni caso interviene subito nel servizio di sicurezza della pista alle cavi di Vittorio Veneto nel frattempo la testa della corsa comunque non cambia Riccardo Pisa sta al comando recupera qualcosina Giuseppe Cazzin che va a cercare di conseguenza anche le posizioni più interessanti al traguardo Già Matteo Pizzocchero ancora mantiene la seconda posizione per poco però visto che alla fine si ritroverà invece decisamente molto attardato questo per un errore che lo estromette dalla seconda posizione l'arrivo vede Riccardo Pisa vincere la corsa davanti a Giuseppe Cazzini in seconda posizione terzo Luciano Clinaz quarto Franco Semenzato quinto Renato Spidazze e sesto Già Matteo Pizzocchero la categoria B si schiera allo start protagonisti favoriti i piloti della scuderia quattro assi davanti a tutti c'è però un Claudio Baldinetti viene dato il semaforo verde Baldinetti conferma le sue doti di ottimo starter parte davanti seguire i piloti della quattro assi c'è però subito un inserimento da parte di Stefano Marcuzzo durerà poco il pilota Marcuzzo rimarrà naturalmente in panne a bordo pista seguito purtroppo anche dal suo compagno di scuderia Angelo Cattellano fuori dei giochi quindi le due macchine ritorna Claudio Baldinetti al comando della corsa dietro di lui arrivano si fanno vedere Doriano Sottana Fabio Ghezzi Giorgio Nan vale a dire i tre piloti della scuderia quattro assi e soprattutto Doriano Sottana ci crede ci crede tanto che Claudio Baldinetti rimane in panne i problemi meccanici lo togono dalla testa della corsa quindi si va alla bandiera a scacchi con un arrivo sostanzialmente totalmente dominato dalla scuderia quattro assi arrivano nell'ordine Doriano Sottana Fabio Ghezzi e Giorgio Nan quindi sarà sicuramente particolarmente felice Paolo Agatoglio il presidente dell'omonima scuderia l'arrivo quindi per la ritmo di Sottana la Fiat 327 di Fabio Ghezzi e la Volkswagen Golf invece di Giorgio Nan siamo all'immagine conclusiva per questa categoria mentre vediamo quanto è successo nell'ultima categoria in programma vale a dire la categoria A dalla pole position nel Reo Tognon con il suo cinquino si fa vedere assieme a Andrea Piaretti questi sono i nomi dei due leader dei due favoriti della corsa allo start Piaretti rimane però leggermente attardato ne approfitta invece nella Tognoni che parte perfetto e va subito ad inserirsi al comando delle operazioni Rudy Pitacoli in seconda posizione dietro si fa vedere Donato Bertuola si fa vedere Luca Casagrande Maurizio Moretz cercano naturalmente ognuno di guadagnare quante più posti possibili dopo lo start con il numero 154 Piaretti arriva subito l'attacco si trova momentaneamente in terza posizione dietro di lui si porta in scia Donato Bertuola davanti sempre nel Reo Tognon a guidare tutte quante le operazioni Piaretti scavalca praticamente la macchina di Rudy Pitacolo rimane fermo a bordo pista Maurizio Moretz quindi esce uno dei protagonisti tra le altre cose corre proprio sulla pista di casa e si va a formare quella che sembra essere la griglia o meglio il podio definitivo a dire Piaretti Fina Bertuola questo innesca qualche situazione qualche contatto tra le due macchine praticamente Donato Bertuola ci crede vede Piaretti davanti ci prova arriva la toccata finale non ce la fa si gira perde addirittura la seconda posizione e si va così alla bandiera scacchi con Piaretti che vince Fina che si vede a questo punto regalato tra virgolette la seconda posizione però merito per lui di averci creduto e di non aver sicuramente sbagliato nulla cosa che si deve invece riproverare Donato Bertuola che parte così la seconda posizione e va a conquistare il terzo gradino del podio quarto classificato Ivano Ruzzante tutti gli altri praticamente rimangono a piedi per problemi meccanici o devono comunque abbandonare la corsa si va così a chiudere e a concludere la prima prova del campionato Triveneto Autocross tra piloti soddisfatti altri meno soddisfatti in ogni caso tutti i giochi sono rinviati al prossimo appuntamento si vanno ad effettuare le premiazioni qualche podio naturalmente all'interno della nuova struttura allestita all'interno della pista le cave da Armando Tonella che ricordiamo è il gestore e naturalmente l'organizzatore dell'autocross in provincia di Treviso il podio dei prototipi con un Danizzardo che sicuramente speravamo qualcosina di più e invece purtroppo si deve accontentare tra virgolette del terzo posto tutto questo naturalmente rinvia al prossimo appuntamento domenica 21 aprile sempre sulla pista autocross le cave in provincia di Treviso abbiamo appena visto che ha portato in finale 12 vetture che è l'amplein per la pista di Vittorio Veneto griglia completa esatto qui abbiamo subito visto al comando un massimo ruzzante che non ha lasciato nulla assolutamente nulla agli avversari si sono accodati in buon ordine sul secondo gradino del podio Andrea Pierretti Ivan Baldinetti di cui bisogna sottolineare la prestazione di Ivan prima gara in assoluto è il figlio di Claudio Baldinetti prima gara in assoluto e podio subito per Ivan quindi un figlio d'arte che sicuramente può ricaicare la grande di uno dei papà che tra l'altro continua comunque nella sua carriera agonistica di pilota un tracciato come possiamo vedere nelle immagini che presentava forse delle zone più bagnate più compatte rispetto ad alcune invece più polverose diciamo che nella mattina c'è stata la necessità assolutamente di bagnare perché la polvere aveva creato dei problemi davvero di grande pericolo è chiaro che quando si bagna artificialmente poi bene o male rimangono delle zone più umide e queste difficoltà poi si riscontrano nella guida e nella scelta dei pneumatici che meglio non possono assistere a questa prova e in effetti la scelta dei pneumatici diventa davvero fondamentale e importante qui siamo chiaramente all'arrivo la bandiera a scacchi che viene adatta lo ricordiamo ancora una volta le posizioni Massimo Ruzzante Andrea Pierretti Ivan Baldinetti al terzo posto al quarto Nereo Tognon Luca Casagrande Buona Gara il quinto posto e Andrea Bassi al sesto questa per quanto riguarda la classifica della categoria della classe A siamo alla partenza allo start della classe C della categoria C e anche qui una delta subito a fare da un unico denominatore almeno al via perché poi non finirà proprio così quella che abbiamo visto è la delta di Francesco Gallotta quest'anno il duello è Savio Gallotta inutile negarci delta Audi esatto delta Audi Savio è balzato agli onori davvero domenica con una prestazione straordinaria a dir poco perché ha portato lo vedremo anche dalle immagini ha portato la sua Audi allo sfaccello totale qui inizia il fumo molto probabilmente è già partito il motore e anche la turbina sta dando dei grossi fastidi e arriverà davvero in una nuvola di fumo comunque arrivando davanti a Franco Gallotta che era questo che interessava il pilota di Crespano dei Gatti il duello era tutto tra di loro tra le altre cose proprio Savio ha tenuto il più possibile si voleva che voteva arrivare alla fine c'è stata un'ovazione poi credo ovazione del pubblico adesso lo vedi si arrende non si arrende lui la macchina è la macchina che proprio non ce la fa più la grande sorpresa della giornata è Arnoldo Simone che arriva con la vettura di lancia la beta di lancia dopo due anni e mezzo di sacrifici finalmente finita una gara e sul gradino più alto del podio per Simone una soddisfazione straordinaria sicuramente i prototipi più potenti lo start un po' travagliato questa toccata subito all'inizio molto spettacolare che però ha messo fuori il gioco subito un paio di macchine e una grande partenza sfortunata però per danizzarlo mentre qui abbiamo un bizotto che ha qualche problema forse il bizotto taglia in maniera anomala il circuito viene redarguito con una bandiera nera e viene tirato fuori dalle classifiche la sua è una posizione scomoda anche perché è in testa del campionato poteva racimolare qualche punto e salvarsi alla grande forse un po' esagerato un po' troppo nervoso il bizotto solitamente va via il problema è il casco Stefano il casco il casco quando i piloti si mettono il casco succede qualcosa all'interno il problema è il casco comunque la classifica di categoria E finisce con Valerio Voltarella al primo posto Dante Brugnaro al secondo e un grande ritorno con un risultato straordinario di Emilio Compagno con il bimotore Honda il famoso prototipo che era stato di Paolo Chigiato quindi rientro per questa macchina esatto categoria successiva siamo alle macchine della categoria B e abbiamo visto lo start piloti da quattro assi che tornano ancora protagonisti i piloti turigiani e l'ospedale turigiana sembrano a loro agio proprio in questa categoria beh diciamo che abbiamo tre portacolori importanti sono Fabio Gezzi Doriano Sottana e Giorgio Nan li vediamo grandi protagonisti bisogna dire che qui c'è stato un pilota sopra le righe che è questo Giuseppe Bampi che è in testa del campionato chiaramente sta dominando gara dopo gara a quel ritmo verde Kawasaki che abbiamo visto nelle immagini precedentemente e d'ora sotto la bandiera a scacchi io credo che Bampi sia difficilmente raggiungibile in questa stagione è chiaro che Fabio Gezzi Doriano Sottana e Giorgio Nan cercheranno e qui concludono nell'ordine in effetti dietro però al ritmo quindi momentaneamente per adesso non c'è la possibilità di poter andare oltre la seconda la terza la quarta è un campionato in salita per i piloti della scuderia 4 Asso altra partenza qui siamo nella categoria sport al contrario di quanto succede un po' nell'asfalto dove nella categoria sport ci sono poche macchine qui griglie complete comunque tanti tanti piloti beh qui è l'urlo delle X19 sono tutte X19 queste con il motore centrale e ormai praticamente al 90% con l'adozione di motore motociclistico si prestano particolarmente bene quindi che se X19 questa categoria motore motociclistico e guida centrale esatto lasciano grande lavoro al preparatore c'è la posizione giusta per montare il motore proprio dietro il sedile di guida l'apparatia difende da eventuali perdite e tutto il resto è come una motocicletta perché si tira sull'asse posteriore più che una motocicletta direi come un kart quindi massima soddisfazione anche per la guida la classifica della sport la classifica della sport è Paolo Clinas davanti a Omar Bertani Walter Moretti Angelo Mora in quarta posizione Daniele Gerussi in quinta a chiudere in sesta posizione Giancarlo i prototipi junior ovvero sia la categoria di nell'immagine anche qui c'è stata una bella battaglia è una grande bagara anche questa perché anche questa ha 12 schieramento completo in effetti qui vediamo transitare un pilota con qualche difficoltà all'anteriore verso la fine della giornata della gara la pista comincia a presentare qualche buca sicuramente un po' troppo esatto direi che la pista si assesta alle sue condizioni qualche buca ne viene fuori e ci rimettono ruote semiassi bisogna scegliere le percorrenze giuste traiettorie le traiettorie diventano fondamentali si sbagliano un paio di curve e ci si trova la macchina non a pezzi ma comunque in brutte condizioni o comunque in grosse difficoltà abbiamo visto qualche pilota che aveva di questi problemi bandiera a scacchi siamo anche qui alla classifica quindi adesso Gallotta la famiglia Gallotta porta a casa parecchio è il primo posto per lui poi Cristiano Giacomini figlio d'arte correva anche il papà terzo è Alessandro Manzato poi Roberto Marchetti Angelo Mognol e Silvio Canepari al sesto posto questo quindi per quanto riguarda la gara la sesta prova del capitato italiano ricordiamo ancora le immagini erano chiaramente relativamente alla pista di Vittorio Veneto in provincia di Traviso un sondaggio Vittorio Veneto per la gara di trofeo Veneto con le migliori vetture italiane della velocità su terra la pista di Vittorio Veneto si presenta nelle migliori condizioni e siamo a presentarvi sicuramente la più avvincente delle gare stagionali svolte su questa pista oltre 50 le macchine iscritte a questa manifestazione grande lo spettacolo assicurato veramente uno spettacolo straordinario e Grazie per la visione 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 Grazie per la visione